Io boh! Io boh! Io non ho conosciuto mai dietro di Vincenzo. Questo è strumento! Vittoria! Lo porti il portafoglio? Ho fatto pepe. No, l'ho perso. Ho fatto pepe. No, dicevo che l'ho perso. Guarda, facevo esatto. Ah, si è messo proprio davanti quando ha fatto gol? Io ho beccato mentre tiravo il gol e non l'ho preso. Guarda, guarda! Che si è? Guarda, guarda! Andre l'ho perso! Detta dopo gli altri anni... Speriamo si senta, così c'è la documentazione, le prove. Grazie a tutti.